La parte tutto da questo Molino E quella era la pilanza Il titolo originale di questa chiesa non è questo Guarda caso anche qui a Molino la chiesa è intitolata San Nicola Voi sapete la storia che ci lega a San Nicola Tutte le parrocchie di Messina Sud sono intitolate a San Nicola Proprio per la forte presenza di una compaginiera Il colui che era il medaglio di Molino Con il profo di Scaletta Vine con un cartico presagio Allora decise di regalare il togo a Molino La baronessa di Scala Regiglia Che è questa Quindi questo è un esempio diciamo straordinario Questo è il primo monastero che è assorto nel 1360 Siamo durante il periodo del 1360 periodo aragonese. Quattro nobili messinesi, di cui non conosciamo questo nome. Fuggono da Messina che è sempre tormentata da lotte intestine interne e si trasferiscono in questa località. La chiesa è già preesistente. Adesso vediamo la chiesetta, che probabilmente non abbiamo documenti storici, che risale al periodo bigiantino o forse anche al periodo della lotta iconoclasta. Grazie a tutti.